Ho trovato le posizioni delle opposizioni molto variegate, per cui non è facile, io speravo diciamo di avere una posizione delle opposizioni più, come posso dire, più coesa, invece sono molto molto diverse le posizioni tra i vari partiti. Ecco Bianca, al di là della riforma costituzionale, poi se ne potrà parlare, però Giorgia Meloni riscontra quello che si riscontra nei fatti, che l'opposizione è frammentata, è stata frammentata all'elezione, è frammentata oggi. Governano cinque anni tranquillamente loro? Beh, io penso di sì, ma tra l'altro però lasciami dire che io ritengo molto grave che le opposizioni si siano presentate divise, cioè senza essersi viste prima e aver concordato o perlomeno cercato di trovare una posizione comune in questo incontro che c'è stato con Giorgia Meloni sulle riforme istituzionali. Perché io sono convinta che lei voglia fare le riforme istituzionali, non per, come dice qualcuno, sopperire ai problemi interni che ha attualmente il suo governo, che secondo me non ci sono, proprio anche per difficoltà delle opposizioni a creare un fronte comune, ma proprio perché vuole lasciare un segno tangibile della sua presenza, rovesciare quella che lei e il suo partito definiscono continuamente, quella presunta egemonia culturale della sinistra che sarebbe stata predominante in questi anni. Presunta o reale l'egemonia culturale della sinistra in Italia? Beh, c'è stata forse un'egemonia culturale ma anche per incapacità della destra in questo senso, diciamo, di avere, come dire, una presenza intellettuale importante. E cosa c'è di più importante di lasciare appunto un segno evidente, tangibile e concreto come cambiare la nostra Costituzione?